ciao a tutti ben trovati questo video su alcuni prodotti che ho acquistato dal sito di pinalli.it volevo provare i prodotti mesauda perché non avevo nulla me ne ho sentito parlarne bene soprattutto da una mia amica e quindi ne ho approfittato perché ho trovato qualche sconticino non tantissimo però insomma ho trovato qualche sconticino allora perché ho scelto i prodotti mesauda innanzitutto per le palette dunque in particolare questa palette la bohemian questa è una palette della collezione di mesauda di quest'inverno è una palette che non è tanto grande vedete prendere la mia mano sarà un 15 centimetri 20 centimetri così forse 20 centi no 15 centimetri è una palette di ombretti vediamo insieme cosa contiene allora questa è la palette un po se riesco a farvi vedere qualcosa che qui con tutte queste questi riflessi si vede poco vediamo un attimo così questa è una palette eccola qua allora vediamo un attimo sbocciamo qualcosa questo è il classico avorio ve li metto qui perché si vedono meglio questo è il classico avorio la prima volta che li sboccio con voi non avevo mai mai messo mano mai toccato un ombretto mesauda questo è un color neutro shimmer questo è un sono molto scriventi molto burrosi un po se riesco a far cadere tutto questo è un ombretto che è un duo chrome è un neutro che da anche su niente non riesco proprio che da anche sul rosato rosato viola questo è un color marrone morbidissimi proprio scrivono benissimo questo è più mattone o rossiccio questo pure è leggermente shimmer qui c'è il nero che scrive benissimo è un nero si un grigio molto scuro tra il grigio e il nero qui è un c'è un dorato guardate come scrivono e questo è un neutro bronzato molto shimmer guardate un po che scrivenza sono meravigliosi questi ombretti io adesso li proverò sulla sugli occhi e poi vi darò la mia recensione riguardo la palette bohemian di questa di questa collezione da quello che so ci sono dei rossetti sono 33 in stilo sono non transfer sono bellissimi io non l'ho preso perché ultimamente non sto mettendo molti rossetti ma sono veramente validi c'è la questa mia amica c'è un rosso veramente eccezionale non non si stampa questo è l'altra palette che ho preso questa è vediamo se riesco ad aprirla dove si apre eccola qua questa è un'altra palette questa anche questa tutta specchiata è la rock vediamo un po se riesco a vedere metto questa così non c'è non riflette se sono un disastro allora questi sono i colori vediamo un attimo se così si vedono meglio ecco qua composta dal classico ombretto neutro questo è un colore albicocca più rosato un colore medio un po shimmer sempre sul rosato un malva un verde verde cinabbero un color rame qui c'è un color giallo ocra sempre un classico color metallizzato sul neutro questo è un color castagna questo è un blu vediamo insieme un attimo la scrivenza inizio col blu perché sapete che blu sono difficili wow incredibile guardate che roba c'è che pigmentazione questo questo ombretto mamma mia vedo l'ora di provarlo sull'occhio questo è il color castagna voglio provare questo malva sì sono molto molto pigmentati questo è un colore che uso più l'estate perché sapete io non uso colori caldi d'inverno perché mi stanno bene questo è un rosa bellissimo vediamo un po se gli shimmer applicati sopra fanno virare vediamo un attimo qua per esempio non si vede niente va bene questo è un color ne sempre neutro questo è un rosa insomma ce n'è per tutti i gusti vediamo questo verde cinabbero un po metallizzato bellissimo questo proprio molto particolare come colore non so chi sta bene comunque molto particolare però se voi fate magari uno smoghi mettete un punto luce con questo fa la differenza questo blu è incredibile cioè io anche un ombretto di mac col blu ma non questa pigmentazione si vede poche volte queste questa è la palette rock diamo un po rock rock romance vediamo un attimo invece la il resto allora anche di questa vi farò sapere qualcosa di più un'altra cosa che ho acquistato qui il blu ha lasciato il segno un'altra cosa che ho acquistato questo primer che c'è pro skin primer è un primer sempre di mesauda a base levigante matificante a lunga tenuta io sono alla ricerca di del primer giusto adesso non so questo andrà provato chiaramente sopra il fondotinta vediamo un po la consistenza è geloso si sembra un gel trasparente certo va approvato anche questo non ho sentito parlare benissimo questo sembrava che costava intorno 27 28 euro c'era un buono sconto sì l'effetto levigante lo fa lo dà vediamo un attimo insomma questo è da provare sulla pelle così vi so dire poco allora sono alla ricerca del del copriocchiaie perfetto ormai mi sono fissata cioè ogni brand io devo acquistare il copriocchiaie allora il primo che ho preso è questo di diego della palma voglio provarli poi vedere un attimo come la situazione questo è di diego della palma make up studio il numero 111 mi sembra che sia il numero intermedio sono tutta sporca con questo ombretto ha un sottotono leggermente o tanto ne esce wow è uscito proprio tanto troppo comunque questo è da da provare la consistenza è molto morbida bisogna vedere quando si fissa se non se non da se si stende bene se non fa grinze e tutto quanto insomma questa è una tonalità intermedia vediamolo questo non l'ho ancora provato domani lo metto invece ho già provato perché ero curiosissima ho provato sia il ristretto concealer di neve cosmetics questo qui e questo anche questo è un ombretto diciamo ombretto un copriocchiaie molto molto pigmentato e basta veramente poco ed è molto coprente guardate qui adesso vi era un po' sul giallo perché le luci a led magari però rimane neutro sull'occhio però e guardate che coprenza che ha è molto molto pigmentato è un è un copriocchiaie che io ho provato stende bene cioè non 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 fa nelle pieghe rimane teso anche durante la giornata molto molto coprente certo bisogna vedere voi che tipo di occhiaie avete chiaramente lo potete stare anche sul viso perché è una tonalità non troppo qui ripeto vira molto sul giallo ma è un neutro non ha un sottotono giallo e questo è quello di invece di Laura Mercier questo di Laura Mercier Flawless Fusion è il numero 2.5V quindi ci sono tantissimi colori di questo io ho scelto questo perché pensavo si avvicinasse molto alla mia pelle e ci ho indovinato ripeto qui si vede che ha un sottotono giallo ma in effetti adesso perché questo dovrei farvelo vedere con la luce del giorno ma in effetti non è così cioè è molto naturale questo qui è meno coprente di quello di Neve Cosmetics anche questo è un ottimo copriocchiaie non secca tutta la zona perioculare non va nelle pieghe distende è meno coprente di quell'altro magari adesso non so se si può stratificare però li vedete che non sono asciutti questo è quello di, si sta asciugando, questo è quello di Diego della Palma è leggermente più aranciato questi qui comunque alla ricerca del copriocchiaie perfetto questi due sono ottimi quando volete un trucco leggero è questo quando volete proprio coprire gli occhiai un'occhiaia bella pesantuccia quello di Neve Cosmetics non è male ne dovete mettere un po' per volte lo picchietto non lo tiro né col pennello né con la spugnetta poi ho acquistato questo taglia tronchesino professionale in acciaio piccolino perché mi trovo bene quando sono in giro anziché le forbicine o questo lo faccio presto e via carino piccolino poi c'era questo rosato come facevi a resistere ma è comodo perché è piccolo più che altro perché quelli che vendono in giro di solito sono grandi invece questo qui rimane piccolino quindi a metterlo nel beauty case e quando uno gira è comodo mi hanno poi dato dei campioncini uno è il Gucci Flora non mi chiedete cosa c'è scritto sotto perché sono senza occhiali ancora per un po' deve cessarsi la mia vista e poi metterò gli occhiali definitivi questo è di Shiseido la Vital Perfection è un siero radiant radiance qualcosa che dà un po' di tono di luminosità questo è il nudissimo di Diego della Palma questo sono proprio curiosa perché è famosissimo questo è un fondotinta opaco a lunga tenuta non so se è no transfer non lo so comunque lo voglio provare questa è la colorazione credo che sia questa la colorazione 242 anni forse è neutra una colorazione media lo voglio provare domani ho tempo lo provo e questo è della FESDI la Niaminacite più Provit B5 è una maschera a base di acido lianuronico più la vitamina B5 questo brand lo vendevano prima solo da Sephora io ho avuto la crema idratante di questo brand e non mi ricordo che cosa altro mi sembra una crema notte non lo so adesso comunque tanti anni fa l'avevo acquistato buono non eccezionare per la mia pelle però ripeto queste cose cambiano ognuno ha una pelle diversa non è che un prodotto è buono è buono per uno non è buono per un altro ecco quindi sono valutazioni così che lasciano il tempo che trovano bene vi aggiornerò sulle palette bohemian e come si chiama quell'altra rock romance queste due palette questa tutta specchiata che riflette tutto sono anche sul primer potete proprio vedere come va la situazione del primer e su il copriocchiai di Diego Dallapalma che lo metterò in uso domani vi faccio sapere vi tengo aggiornate ciao ciao